Ecco la squadra del neorettore Antonio Uricchio, deleghe ridotte quasi a metà. I delegati che rappresenteranno il rettore nelle politiche che è chiamato a sviluppare sono 43 meno dei 70 del precedente mandato, ma con nuove materie. Alcuni nomi, alla didattica Massimo Derienzo, al bilancio Gianvito Giannelli, all'internazionalizzazione il prorettore vicario Angelo Tursi, alla ricerca Angelo Vacca, alle scuole di specializzazione sanitarie Ettore Cicinelli, con due giovani alla semplificazione Paolo Stefani e al contenzioso Ignazio Lagrotta. Anche nuove deleghe, dicevamo, che riflettono, ha spiegato il rettore, le nuove esigenze della società e la proiezione all'esterno dell'Ateneo. Penso per esempio alla delega alla creatività, una delega che riguarda le missioni umanitarie a cui molti dei nostri colleghi medici sono impegnati, una delega per le politiche sociali, una delega per il placement e quindi riflettono alcune delle deleghe anche il senso di una nostra attività nel sociale, ma anche poi di un impegno per i nostri giovani, per aiutarli a collocarsi nel mondo del lavoro. Sono poi allo studio una serie di comitati. Il primo si occuperà di risanamento finanziario, mentre altri saranno dedicati all'internazionalizzazione, ricerca, legalità e trasparenza. A margine dell'incontro il rettore Uricchio ha ribadito l'impegno dell'Università di Bari per evitare il rincaro delle tasse studentesche e non farsi travolgere dalla spirale di quelle università premiate perché prelevano un maggior gettito.